Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Se mi dovesse venire in mente una delle pod mod da suggerirvi, migliore pod mod che ha tutto quello che serve ad oggi per definirsi un'ottima pod mod, quindi tiro automatico, sostituzione delle coil, ottimo aroma, buona autonomia, perdite ridotte all'osso, in mente mi viene sicuramente la G2 di casa Uwell, in cui c'è anche la regolazione del tiro, che è una cosa importante, vi permetterà di avere sia un tiro da guancia, sia un tiro da flavor, quindi un tiro da guancia più aperto che è tendente al flavor. Oggi siamo in casa Spire per parlare di un prodottino che si può tranquillamente affiancare alla stessa G2 di casa Uwell, che ho definito una delle migliori pod mod uscite sul mercato a dicembre 2021, una delle migliori pod mod di casa Uwell. Oggi vi dicevo, siamo in casa Spire per parlare, ce l'ho qui in mano, della Flexus Q appunto di casa a Spire. Ha una batteria interna da 700 mAh, ha la sostituzione delle coil, ha la pod da 2ml, ha la regolazione del tiro, ha il tiro automatico, ma in più rispetto all'Uwell ha una carica super veloce. Infatti ricarica Type-C che abbiamo giù da 3A, per dallo 0 all'80% si ricarica in appena 10 minuti. E in più anche il tanto amato Pastrò, che secondo me è utilissimo in questi sistemi con batteria non capientissima. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete già fatto, e noi ci vediamo subito dopo la macro di questa Flexus Q di casa a Spire. Buona visione! E questo è il packaging di questa Flexus Q di casa a Spire. Ne vediamo alcune delle caratteristiche all'interno della confezione, troveremo. Classico manuale di istruzione in lingua inglese, andiamo a sfogliarvi insieme per scoprirne come di consueto le caratteristiche. Vi faccio subito notare che ha una ricarica Type-C da 3A, ricarica super veloce, vediamo anche il contenuto della confezione. Dimensioni 112.8 x 22.8 x 14.2 mm. La pod ha una capacità da 2 ml, batteria interna a 700 mAh non sostituibile, funziona sia in tiro automatico sia con l'attivazione del tasto, il range di elettorio di resistenza va da 0,5 a 2 ohm, e il cutoff è di massimo 6 secondi. Poi vediamo come si ricarica, vediamo anche alcune delle altre caratteristiche, ma come sempre vi consiglio di darci un occhio. cavetto USB Type-C per la ricarica, ricarica, vi ricordo, 3A. È la prima volta che vediamo in casa Spyro una ricarica così veloce, infatti l'80% di questa pod mod si ricarica in appena 10 minuti. Due coil in dotazione, perché la pod ha coil sostituibili, andiamo a sblisterarne una delle due, peccato che gli o-ring sono identici, quindi non si riconoscono se non andando a leggere l'impedenza direttamente sulla coil, avremo una coil da un ohm, che va da 12 a 15 watt, naturalmente una coil a mesh, sblisteriamo anche l'altra, e una seconda coil, vediamo dov'è, eccola qui, da 0,6 che va da 15 a 18 watt, anche questa a mesh. Io andrò ad inizializzare questa da un ohm, speriamo sia come le altre coil di casa Spyro. L'inizializzazione è importante, perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato, e di essere più duratura nel tempo. Inseriamo qualche goccina di liquido, qui nel foro centrale, e qualche goccina nelle asole laterali. Naturalmente l'inizializzazione va fatta solo, nel momento in cui avrete in mano una coil nuova, i successivi refill, i successivi pieni, non andrà fatta questa operazione. Mettiamo da parte, e vediamo cos'altro arriva. Ed eccola questa nuova PodMod All-in-One di casa, Aspire Flexus. Frontalmente troviamo il tasto Fire, il LED che ci indicherà la carica restante, e anche la modalità di funzionamento, lo vedremo tra un attimo. Scritta Aspire, sul lato pulita, dietro questa finto carbonio, in cui ci ricorda anche il nome, del prodottino Flexus Q. Sotto, presa Type-C, 3A, super veloce, novità. e su questo lato troviamo questo selettore, che ci permetterà di andare a impostare il tipo d'aria. Ha una buona resistenza, aria tutta aperta, che vediamo se resterà sempre nel tiro di guancia, fino a andare a parzializzarla, e ad avere un tiro veramente, veramente chiuso. Pod, la vedete, ad incastro, una pod da 2 ml, sotto vi faccio vedere, i due contatti di attivazione della coil, e quel pirulino, che servirà per l'attivazione automatica. Ci sono due tipi di pod, a me ha mandato questa, con il refill, che si fa, andando a sollevare questa gommina, che io non amo particolarmente, bisogna avere un po' di unghie, non è difficilissimo da fare, vedete il foro per fare il refill, come vedete in solle pressione, c'è invece un'altra versione, CRC mi pare che si chiami, in cui il refill viene fatto da sotto, c'è una valvola, dove andrà inserito, il beccuccio della nostra boccetta. Andiamo a prendere la coil, che avevamo inizializzato, coil ad innesto, sto utilizzando la coil da un home, basterà spingerla, fino in fondo in questo modo, prendiamo il nostro, sigaro italiano, e andiamo a fare il refill. Tappiamo e semplicemente andiamo a posizionare, sulla nostra mod, non ha un verso, possiamo inserirla in entrambi i modi, 5 clic, 1, 2, 3, 4 e 5, vedete lampeggia, in questo caso, nel momento in cui andremo in attiva, attivazione, ci indicherà la carica restante della batteria, così come vedete in sovrimpressione, tra le colorazioni disponibili, di questo led, e in più, 3 clic, 1, 2, 3, potremo andare a scegliere, le varie potenze, ha 3 potenze, potenza bassa, potenza media, potenza altaniente di più semplice, 1, 2, 3, queste sono le 3 colorazioni, che andranno ad assurre, vi ricordo, tiro automatico, tiro con il tasto, adesso, non ci resta, che andare a fare, 2 sbavate assieme, e scoprire, cosa penso, di questo nuovo, All-in-One Pod Mod, in ricarica super veloce, di casa Aspire, e allora, prima di andarla a provare insieme a voi, questa Flexus Q di casa Aspire, mi sembra doveroso, nominare un'altra pod, All-in-One IO, che funziona veramente, veramente bene, per restare in casa Aspire, ed è proprio, ce l'ho qui, ed è la Cube di casa Aspire, questo prodottino ragazzi, andate a vedere il video, andate a vedere, anche i commenti sotto il video, questo prodottino, spacca veramente, ottimo tiro, ottime coil, purtroppo, sembra che Aspire, nonostante le decine, decine di email, che le ho fatte, in questi mesi, perché ormai sono passati, parecchi mesi, da quando l'ho recensita, non voglia portare avanti, queste AVP coil, quindi, non si capisce, se tirerà fuori altri prodottini, non si capisce, fin quando saranno disponibili ancora, queste coil, o comunque se resteranno a catalogo, fatto sta, che queste nuove coil, della Flexus, di questa Aspire, vi dico, che anche queste funzionano bene, coil da non a mesh, coil da 0.6 a mesh, io su questa rossa, ho montato, la coil da 0.6, ho l'aria tutta aperta, come potete vedere, sono a metà, come step di vattaggio, perché, ho step di potenza, per essere più precisi, perché potete scegliere, tre step di potenza, che la riferisce, rispetto alla, Calibur G2, dove non potete scegliere la potenza, e questo è il tiro, che ci regala, con la coil da 0.6, è un flavor, molto, molto ristretto, vediamo, se rientra, nel tiro di guancia, e può sembrare, anche un tiro di guancia, parecchio, parecchio, aperto, qui abbiamo, la possibilità, di utilizzarla, sia in tiro automatico, sia con il tastino, la batteria, 700 mAh, regala, una discreta autonomia, riuscite a fare, l'incirca, due pod, barra, tre pod, a secondo del, se utilizzate la coil, da 0.6, o da 1 ohm, a secondo anche, della potenza, che andrete a utilizzare, vado a prendere, quella nera, che è questa qui, dove ho montato la coil, da 1 ohm, ma che secondo me, è l'ottimo, per avere, un perfetto tiro, MTL, un perfetto tiro da guancia, qui, la regolazione, che è questa qui, dovete prendere all'inizio, un po' la mano, perché se andate a chiuderla tutta, riuscite a fare, un tiro strettissimo, secondo me, è un tiro molto, molto forzato, dal punto di vista, del tiro di guancia, perché è parecchio chiuso, e rischierete di andare, a fare l'effetto cannuccia, perché le coil, inizieranno a splittare, a rilasciarvi, un po' di liquido in bocca, quindi dovete stare lì, all'inizio, a regolarla, ad aprirla, pian pianino, perché comunque questa levetta, è parecchio dura, l'appoggiate alle vostre labbra, iniziate a tirare, e l'aprite, fin quando pensate, che il tiro vi potrà soddisfare, io ragazzi, la tengo, vediamo se va a fuoco, eccolo, che ci siamo, la tengo, così, diciamo che la regolazione dell'aria, c'è, funziona bene, ma non è facilissimo, andare a regolare, ma una volta che l'avrete impostata, è talmente dura, e che non si sposterà, qui sono con la media potenza, quindi sono con il led su blu, tre click, andate a spostare, le di tre diverse potenze, e questo è il tiro che ci regala, un buonissimo tiro MTL, coil a mesh, che funzionano bene, possono essere considerate, le degne sostitute, le AWP, o comunque possiamo considerare, le coil da affiancare, tranquillamente, alle AWP coil, che io, adoro, non mi stancherò mai di dirlo, ma tanti di voi adorano anche quelle coil, vi consiglio, se stai cercando, uno è un prodottino, come questo, piccolino, da portarvi in giro, e che abbia una ricarica, super veloce, qui riuscite a ricaricarla, in meno di dieci minuti, ho provato con il caricabatterie da muro, da 3 ampere, e in effetti si ricarica in dieci minuti, in più alla funzione, pastro, quindi mentre la state ricaricando, la potete utilizzare, altra cosa molto importante, però ahimè, anche qui la Aspire, come hanno fatto un po', la maggior parte delle aziende, che producono questi prodottini, starter kit entry level, e che hanno sia il tiro automatico, e sia il tastino, poteva fare una combinazione di tasti, col singolo tasto, magari, che ne so, due click, andavate a disattivare il tasto, e funzionava solo in modalità automatica, questa cosa non è possibile, quindi quando la riponete in borsa, la posate in tasca, vi consiglio di andarla a spegnere, così non ci saranno attivazioni involontarie, cut off da 6 secondi, quindi è un cut off, che è nei limiti sindacabili, per l'utilizzo di questo prodottino, non sono 3-4 secondi, come è successo in casa WP, che comunque davano fastidio, ma 6 secondi, secondo me, bastano, questa cosa l'han fatta, perché ho fatto diverse prove, superando i 6 secondi, con l'utilizzo del tasto, quindi nel momento in cui andava, si attivava il cut off, lì andavo a ripiggiare il tasto, proprio per dargli ulteriore spinta, e le coil, nelle svapate così lunghe, tendono a steccare, anche con i liquidi 50-50, quindi credo che sia stata trovata questa soluzione, proprio per preservare le stesse coil, coil che tutto sommato funzionano bene, durano tanto, nella media, perché sono delle coil a mesh, a seconda dei liquidi che andate ad utilizzare, comunque 30-40 ml, ce li fate tranquillamente, poi di là dipende, non solo anche dal liquido, ma anche dal tipo di svapata che fate, se fate dei tiri lunghi e compulsivi, naturalmente questo tenderà ad accorciare, la vita delle coil, ultima cosa che vi dico, e andiamo a capire, se ci sono perdite di liquido, ve lo faccio vedere a voi, perché si dovrebbe vedere anche in videocamera, e ve lo faccio vedere anche qui, ragazzi le perdite sono veramente ridotte all'osso, come ho detto, veramente minime, un suggerimento che do, non per questa, ma può valere anche per questa, ma un po' per tutte le pod, nel momento in cui il tiro automatico dovesse bloccarsi, si voi di volta in volta, quando andate a fare i refill, vi consiglio sempre di andarlo ad asciugare il liquido in eccesso, ma nel momento in cui si dovesse bloccare il liquido, una soluzione velocissima, per sbloccare il tiro automatico, scusate ho detto il liquido, è quella di andare a soffiare attraverso la presa Type-C, quindi voi soffiate in questo modo, forte, abbastanza forte, e nel 90% dei casi, vedrete che il tiro automatico ricomincerà a funzionare, altra cosa interessante, a me non piace il gommino dove l'ha messo, perché l'ha messo qui di lato, questa cosa, a volte avete difficoltà, se avete delle mani un po' più grosse, o se avete delle unghie corte, andarlo a stappare, non è difficilissimo, comunque qualche difficoltà la dà, l'alternativa è quella di andare a prendere le pod, con la valvola sotto, quindi andate a fare un semplice refill, direttamente da sotto, senza andare a stappare nessun tappino, ragazzi, il prezzo di questo prodottino, se aggira intorno ai 20-21 euro, ho visto così, girando un po' e googlando un po' su internet, come al solito vi consiglio, di fare le giuste ricerche, di trovare il prezzo migliore, e prima di salutarci, vi dico che nel classico crash test, stress test, meglio di unico svapo, i problemi riportati dopo due settimane, di amore tra box, pod e quant'altro, sono questi graffettini qui, cosa che invece sulla nera, che faceva parte dello stesso borsellino, queste cose invece non sono venute fuori, quindi una verniciatura, comunque tutto sommato resistente, ma non resistentissima. Nei commenti, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, di queste paio, di queste all in one, di queste pod, fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere, sul canale, in questo 2022, che sta per arrivare, io sono dato, questo è il canale di unico svapo, lasciate il consueto e classico pugno di like, iscrivetevi al canale, attivate la capellina, se lo avete già fatto, e come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ci vediamo al prossimo video, buona serata. Buona serata.